Cristo risorto, buona giornata carissimi fratelli e sorelle. Oggi iniziamo questo giorno al suono di queste campane, delle campane che ci dicono che Cristo è vivo, è risorto ed è in mezzo a noi. È l'annuncio più bello che i nostri orecchi possono oggi ascoltare, che Dio ti ama, che Dio è con te, che Dio è al mio fianco e che Dio manda anche oggi a noi la sua parola. Allora la accogliamo con gioia. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 10, versetti 38 e 42. Mentre era in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse, Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire, dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose, Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Amen. Carissimi amici, oggi il Vangelo di Luca che ci parla di queste due sorelle, oserei dire famose, perché ormai nella vita del cristiano la figura di Maria, la figura di Marta, sono davvero molto famose, molto richiamate, ma soprattutto la figura di Marta, perché quando qualcuno si preoccupa di tante cose le diciamo, Marta, Marta, perché ti preoccupi? In un'espressione un po' ironica, scherzosa. Ma vediamo oggi come il Vangelo ci vuole presentare questo episodio e questi due ruoli di cui parla Gesù. Gesù entra nella casa di Marta e Maria in questo villaggio, sappiamo che hanno anche un fratello di nome Lazzaro, ma qui non se ne parla, e ci sono due atteggiamenti. Maria si siede ai piedi di Gesù e ascolta quello che Gesù dice. Marta invece, da quando Gesù entra, inizia a fare le faccende. Non sappiamo cosa fa, probabilmente preparava qualcosa da mangiare, preparava qualcosa per il maestro, dove accomodarsi, cosa fare, tante, però, delle faccende. E Gesù trae spunto per questo fatto, proprio perché poi Marta dice Signore non ti importa che io ti sto servendo e Maria è lì senza fare niente, dice. Gesù risponde dicendo che tu ti affanni, Marta, ti agiti per molte cose. Quindi qui Gesù sta parlando di un fare, un agire, ma soprattutto un preoccuparsi, perché noi questa agitazione la potremmo leggere anche come una preoccupazione. Quindi non occuparsi di qualcosa, ma preoccuparsi. Cosa significa? Che tutto dipende da me. Devo fare io delle cose, devo preparare questo, devo preparare la giornata, devo preparare l'orario, devo preparare altri aspetti della mia vita, Marta, per questo non ho tempo di pregare, non chiedermi di pregare al mattino perché devo preparare tante cose. Marta è stato un po' così. Gesù è entrato nella sua casa e Marta prepara qua, prepara di là, prepara. Ma la cosa più importante è quello che ha fatto Maria. Si è seduta ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. E Gesù dice, di una cosa sola c'è bisogno, uguale ascoltare la sua parola. Cari amici, questo brano è un brano per eccellenza del cristiano. E domandiamoci come viviamo la nostra vita di cristiani, di fedeli. Che cosa faccio? Mi preoccupo di tante cose. Uno potrebbe dire, sì, puoi pregare tanto, ma chi fa le cose magari sono io, che apro la chiesa, che vado alla Caritas, che do un aiuto ai bisognosi, che vado vicino, porto la comunione, aiuto chi è nella disperazione, eccetera, eccetera. Però Gesù non sta dicendo che quello che faceva Marta fosse sbagliato. Ha solo detto che in quel momento Marta si stava affannando, si stava agitando. Quindi non ha rimproverato per le cose che faceva, ma per l'atteggiamento di Marta. Cioè ansioso, preoccupante. Un atteggiamento in cui non era importante per primo stare con Gesù, ma fare. Allora, anche questo è un indice di come va la nostra fede. Perché ci sono cristiani che vivono solo facendo. Per dire, io prego poco, però faccio del bene. Amo, aiuto, ma non conoscono Gesù. Non sono mai stati o non sanno stare ai piedi di Gesù, ascoltare la sua parola. Quante giustificazioni noi troviamo per non fermarci e stare davanti a Gesù. E ne troviamo tante. Ma io sto facendo del bene, ma io sto lavorando per il Vangelo. È come se pregassi. Non è così, cari amici. Noi abbiamo esperienza come comunità. Ogni giorno abbiamo due ore di preghiera personale. E a volte viene la tentazione di dire, vabbè, un'ora la faccio il mattino. Quando ci alziamo, è cinque e mezzo. E poi il pomeriggio, ma faccio un lavoro di qua, un lavoro di là. È come se pregassi. Ma non è così. Questa è una tentazione. Gesù è degno di avere il suo posto nella vita di ogni cristiano. Perché è Gesù, lo ha detto lui stesso, l'unica cosa di cui c'è bisogno. La parte migliore. Poi viene il resto. Cari amici, non interpretiamo male i ruoli di Marte e di Maria. Perché Maria non è una fannullona. Maria non è una donna trascendentale che in qualche modo è solo lì che prega Dio dal mattino alla sera. Maria è una donna che si sceglie prima la parte di stare davanti a Gesù, ai piedi di Gesù, ascoltare la sua parola. E poi fa. Marta invece, colei che non si ferma mai, è sempre in continua agitazione, fa, 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 ma non ha esperienza di Gesù. Allora, cari amici, andiamo alla sintesi di oggi per ciascuno di noi. Come cristiani cosa dobbiamo fare? Al primo posto viene ciò che è prima. E ciò che è prima Gesù ha detto stare ai suoi piedi, ascoltare la sua parola. Questo lo sta dicendo Gesù, carissime. Non lo dico io, non lo dice la Chiesa. E' il Vangelo. Luca 10, 39. Stare ai piedi del Signore, ascoltare la sua parola. Tutto il resto viene dopo. Non imbrogliamoci, non inventiamo una nuova religione, una nuova fede, un nuovo modo di pregare. Se non siamo capaci quotidianamente di fermarci, di sedere ai piedi del Signore e di ascoltare la sua parola. Quante parole ascoltiamo ogni giorno? Dalle news, dai giornali, dai media, quante ne ascoltiamo? E non siamo capaci di ascoltare anche cinque minuti la sua parola. Ma ascoltare non significa ascoltare i miei messaggi quotidiani, perché qualcuno dice, ho ascoltato Padre Luca al commento, ho pregato. Purtroppo ti do una brutta notizia, questa non è preghiera, questo è solo un aiuto. Finito questo video o prima, tu devi stare con il Signore. Io non sono il Signore, meno male, perché non sono santo e non sono come Lui. Cerco di assomigliarli un po', ma devi stare con Gesù. Devi sederti ai Suoi piedi. Lontano dalla confusione del mondo, stare con Lui, ascoltare la parola. Non è possibile che in una settimana, solo la domenica, tre minuti distratti, ascoltiamo la parola del Vangelo. Non è possibile. Mi raccomando, non fatevi chiamare cristiani se lo ascoltate solo a messa la parola. E non avete il coraggio, la forza, l'audacia, perché è l'audacia, di aprire la vostra Bibbia a casa vostra. Perché dovete avere una Bibbia a casa, se no siamo cristiani proprio solo di nome. Quindi vi incoraggio, cari amici, a obbedire al Vangelo di oggi. Luca 10, 39. Ogni giorno la prima cosa da fare. Al primo posto, sedersi ai piedi del Signore, ascoltare la Sua parola. Non lasciare passare nemmeno un giorno della tua vita senza aver ascoltato, letto, proclamato la Sua parola. Fosse anch'ero solo tre versetti, un salmo piccolo, quello che leggiamo oggi. Ma dobbiamo ascoltarla, cari amici, altrimenti la nostra fede è una fede vana. Io credo che Dio esiste. Anche il diavolo crede e sa che Dio esiste. Allora chi siamo? Il diavolo si è. No, credo che esiste per questo, credo che è amore, per questo leggo la Sua parola che mi nutre giorno dopo giorno. Amen. Quindi, cari amici, oggi seguiamo l'esempio di Maria. Al primo posto viene Gesù, viene la Sua parola. Da questa parola verrà tutto il resto. Preparerò da mangiare, farò le pulizie di casa, preparerò un posto per Gesù. Ma prima di tutto sono io che devo mettermi di fronte a Lui. Non giustifichiamoci, cari amici, perché Dio conosce le nostre scuse. Tutto quello che noi vogliamo fare lo facciamo, ma siamo sinceri con Dio. Troviamo il tempo quotidiano ogni giorno di stare con Lui alla Sua presenza. E vedrete che non brontoleremo più, perché quando stiamo alla presenza di Gesù, Lui mi riempie. E riempie la mia bocca di belle cose, di belle parole. Ma se io non so stare neanche cinque minuti da solo con il Signore, e sto con tutti gli altri e perdo tempo, dovunque, con chiunque, e brontolo. Ma quanto tempo ho perso, cari amici. Potevo pregare. Potevo fare qualcos'altro. Quindi vi incoraggio oggi. Diventiamo, come Maria, discepoli, autentici di Gesù e con me. Preghiamo il Salmo che proprio oggi ci viene proposto dalla liturgia, che è il Salmo 139. Signore, Tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Quanto profondi per me i tuoi pensieri e quanto grande il loro numero. Scruta, mio Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di dolore. E guidami per una via di eternità. Sì, oh Signore, vogliamo chiederti oggi di entrare nella nostra vita con la Tua luce. Signore, spesso noi siamo più simili a Marta che a Maria. Anche io voglio riconoscere oggi che spesso trovo tante scuse per non metterti al primo posto, per non guardare la Tua parola, le Tue promesse. Ti chiedo perdono per questo. e anzi ti chiedo attraverso il Tuo Spirito Santo di rinnovare lo zelo, il desiderio di seguirti, il desiderio di stare ai Tuoi piedi e credere che stare con Te non è perdere tempo, ma è guadagnarlo. Non è perdere la vita, ma guadagnare la vita. E avere idee chiare in tutti gli ambiti di quello che io vivo. Per questo, Signore, oggi ti accolgo e ti prometto di voler stare sempre con Te e quotidianamente ascoltare la Tua parola. A Te la gloria nei secoli dei secoli. A me. Carissimi amici, pensate che San Francesco di Sal in una sua corrispondenza ha detto a una sua corrispondente sai, io avevo tante tante cose da fare ed era vescovo. Pregavo un tot di ore ma ho trovato il modo per fare tutto. E quell'altro ha detto cosa hai fatto? Ho aumentato di un'ora la mia preghiera. E sono riuscito a fare quello che non facevo prima. Cosa significa? investiamo nel Signore il nostro tempo e Lui ci darà tutto ciò che ci serve e molto di più. Buona giornata, cari amici. A domani. Grazie che mi avete accolto. Ciao. a domani. Grazie a tutti.